Sono sicuro che molti di noi cercano delle soluzioni per ottimizzare la nostra situazione fiscale. Oggi infatti voglio condividere con voi alcune strategie per ridurre il carico fiscale in modo legale naturalmente. Ricordate sempre che è importante consultare un professionista fiscale prima di attuare qualsiasi strategia. Proprio per questo motivo questo video è in collaborazione con FiscoZen, un servizio per la gestione della partita IVA online con un commercialista dedicato e una piattaforma per gli adempimenti fiscali. Sono sicuro che almeno una volta vi sarà capitato di sentire qualcuno che gli ha detto Ah ho ricevuto un bonus di 200€ e voi magari non avevate neanche idea che esistesse qualcosa del genere. Voglio raccontarvi un breve aneddoto che mi è capitato personalmente. Poco dopo aver avviato la mia attività, quindi aperto la mia partita IVA nel 2020, sono stato contattato, quindi avvisato dal mio commercialista che c'era la possibilità di ottenere un bonus di 1000€ da parte dell'Agenzia delle Entrate a sostegno delle nuove attività aperte dal 2019, proprio per l'emergenza Covid. Si trattava appunto di un vero e proprio finanziamento a fondo perduto. Quindi ho dato subito l'ok al mio commercialista di avviare la pratica e pochi mesi dopo ho ricevuto i soldi sul conto. Un'altra possibilità sono le deduzioni fiscali. Oltre ai bonus, infatti, ogni paese ha delle specifiche regole per le deduzioni fiscali. Quindi assicuratevi di conoscere quali sono le spese ammissibili per la deduzione fiscale, come per esempio spese mediche, le spese per l'istruzione, per l'abitazione, le spese per l'attività commerciale e tante altre. Per poter beneficiare di queste deduzioni fiscali è importante però mantenere le ricevute e quindi poter documentare queste spese. Esistono delle app molto carine che potete scaricare ed utilizzare per tenere traccia di queste spese. È necessario però avere un commercialista di fiducia che vi avvisi quando abbiate il diritto di ricevere un bonus o appunto accedere a delle agevolazioni fiscali. Come ad esempio Fiscozen, che ti mette a disposizione un commercialista esperto nella tua professione, che ti contatta tempestivamente per darti aggiornamenti importanti e che puoi raggiungere telefonicamento via mail per qualsiasi informazione. Ora voglio parlarvi dei regimi fiscali agevolati, perché oltre a regime fiscale ordinario o semplificato, dovete sapere che esiste il regime forfettario, che è praticamente perfetto per chi sta iniziando una nuova attività, perché propone diversi vantaggi. Intanto la tassazione è agevolata, perché pagherai solamente il 5% per i primi 5 anni e poi per i successivi il 15%. Le tue spese saranno determinate in modo forfettario, ciò vuol dire che dovrai pagare le tasse solamente su una percentuale dei tuoi incassi, che si ottiene moltiplicandoli per il nostro coefficiente di redditività, ovvero un valore specifico che può variare da attività ad attività. Un altro vantaggio è che non dovrai applicare l'IVA sulla vendita di tuoi prodotti o servizi, e questo ti porterà un vantaggio rispetto ai tuoi competitor, perché potrai vendere ad un prezzo più conveniente. Questi calcoli non sono proprio semplicissimi da fare, proprio per questo Fiscozen ci mette a disposizione un'app per emettere le fatture elettroniche e per calcolare le tasse dell'anno successivo. Questo è interessante perché possiamo subito vedere la previsione delle tasse da pagare, senza aspettarci e ritrovarsi magari con delle sorprese. Inoltre si possono registrare le entrate e le spese. Utilizzando questi strumenti avete la possibilità di ottimizzare il tempo e evitare di sbagliare. Dovreste valutare quali sono i vantaggi e le restrizioni per ogni regime fiscale. e scegliere quello più adatto alla vostra situazione. Prima di aderire ad occhi chiusi al regime fiscale agevolato, effettuate un'accurata valutazione dei costi e dei benefici. Quindi fate un'analisi generale della vostra attività, magari anche una previsione del fatturato. E anche in questo caso potrebbe essere utile consultare un commercialista per farci dare dei consigli. Fiscozen offre una consulenza gratuita, troverete il link in descrizione, dove appunto un professionista potrà risolvere i vostri dubbi e rispondere alle vostre domande. In più vi ho riservato anche una sorpresa, perché se richiedete la consulenza direttamente dal link in descrizione, avete un bonus di 50 euro da utilizzare nel caso in cui decideste appunto di iniziare a collaborare con loro. Pianificazioni delle entrate e delle spese. Per ridurre il reddito imponibile potreste considerare di posticipare alcune entrate o anticipare alcune spese. Ad esempio, se siete dei lavoratori autonomi, potreste considerare di posticipare le emissioni di alcune fatture o anticipare i pagamenti delle spese deducibili alla fine dell'anno fiscale. Fate attenzione alla tempistica delle spese deducibili. Per esempio, se avete bisogno di acquistare delle attrezzature, potrebbe essere conveniente farlo alla fine dell'anno fiscale, per massimizzare la deduzione fiscale dell'anno corrente. Ora parliamo un attimo delle agevolazioni fiscali per le imprese. Per alcuni settori specifici o per alcune attività è possibile beneficiare di agevolazioni fiscali specifiche. Ad esempio, per quelle attività che operano nel settore dell'energia rinnovabile, ci possono essere degli incentivi per, ad esempio, il montaggio di pannelli solari. Informatevi quindi sulle agevolazioni fiscali pertinenti del vostro settore e considerate come poterle sfruttare. Ad esempio, la legge di bilancio 2021 ha incrementato il bonus per le assunzioni delle donne, portando la decontribuzione dal 50% al 100% per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022. E, grazie alla proroga, rimarrà anche per il 2023. In ultima analisi voglio darvi il consiglio di sfruttare i servizi di consulenza e gestione fiscale online. Come stavo dicendo prima, è importante utilizzare questi servizi per poter ottimizzare il nostro tempo ed evitare di sbagliare. E soprattutto poter prevedere i nostri adempimenti fiscali. Collaborando con un professionista esperto come Fiscozen, potete ottenere consigli sulla vostra specifica situazione fiscale e massimizzare le possibilità di risparmio. Fiscozen vi avvisa anche quando c'è da fare la dichiarazione dei redditi, compilando per voi l'F24 ed inviandolo. Ci tengo a precisare perché è importante, prima di attuare qualsiasi strategia e iniziare a fare un qualcosa in autonomia, di consultare un consulente fiscale, soprattutto qualificato e che abbia familiarità con le leggi del vostro paese. Per questo video è tutto, ma prima di lasciarvi vi ricordo il link in descrizione per la consulenza gratuita su Fiscozen e ci sarà incluso anche il bonus di 50 euro. Un saluto, ciao!